Buongiorno, una cosa di me che mi piace da dire e soprattutto mi piace iniziare la giornata facendo colazione, quindi me la sono presa un po' con calma e nonostante siano tipo 7 o meno 10 del mattino. Ho tardato un po' per arrivare ed eccoci qua. Attualmente continuo a sentirmi un po' Kenny, questo vlog inizia con noi che siamo già spawnate a... in realtà no, si passa a registrare. Ho un video di stamattina, non ero così, vedrete che non ero così. E niente, siamo già spawnate qui a Milano, fanno cazze fritte, la nostra casa è bella, bellissima! Ci vediamo fuori. Allora, siamo andati da Starbucks e ti ho scritto... censura o nome, non è vero? Frappuccino! La nostra Igo si è presa qualcosa. Qualcosa? Qualcosa. Soia. No, è avena. Sì, avena, avena, avena. Molto instagrammabile. Io pensavo che fosse... altro... freddo... invece è freddo... Cosa è legato? Questa è legato. Questa è legato... Che cosa è legato? Questa è legato... Cosa è legato. Grazie a tutti. Ho scoperto a ragazzini. Ho scoperto a ragazzini. Questa è legato. salve amici abbiamo ripreso oggi l'anno straico è qui a guardare cose in modalità befano come ieri fa freddo ci sono i calzini, calzini bira, calzini adronato, calzini eni e un sacco di cose carine in realtà oggi gireremo per cianetown dimmi wow ecco quello che mi hai fatto vedere e quindi niente metterò video qui sparsi di noi che ho sonno ragazzi sono ok la nostra ha vandalizzato anche Milano io mangio queste cose quanto costano queste cose? Silbo sono i videnziatori sono i videnziatori c'è un sacco di roba carina io probabilmente volevo spendere tutti i miei soldi in cibo sì arriva sto arrivando sto arrivando attenzione attenzione sono proprio io adorabile perché c'è una fila lì? no perché c'è Gojong non lo so che cos'è? se lo possono tenere un bubble tea il mio essere campana sia un antimo espresso in questo video ok prima pappa di oggi spero che da adesso li puoi mangiare vediamo che adesso vi finiamo vediamo ah sì aspetta ma scusami buon 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voglio mangiare le cose. Cibo, panna e due. Mi vado a prendere dei gallini. Il giro che non sta mangiando solo lui. Lo giuro veramente, stiamo aspettando le cose nostre. Grazie amore. Aspettiamo. Fugas, fra ci vini qua, è molto buona. Sei già venuto qua. Io mi avevo stato da provare, che non c'era. Papà. Papà. Ho bisogno di una zuppa bollente. Papà. La seconda pappa. Altra pappa. Per far vedere cosa ha preso. L'abbiamo preso anche noi. Stanno arrivando. Sì. Stanno arrivando. Ha preso un omino. Un omino? Uh. Grazie. Sì. Spesso è di Silvana. Yeee. Oddio, si vede il fumo. Che belli che sono. Non lo so. Non lo so. Guarda, le zanotte fa un po' poco. Oh no, sta fliccherando tutto. Mi ha rubato il pigmento da togliamo. Ammene. Oh, mi ha togliamo. Ma che c'è. Tesoro. Amore. Non voglio piangere. Amo. No, persone, andate via, andate via, andate via. C'è perché sto a fermare, andate via. Guarda il culo di questo gattino. Piccolo. No, Giorgio. No, piccolo. No, piccolo. Riprendere Giorgio triste. Giorgio si è anche fermata. Ok. Guarda dove vai. Guarda, guarda carina. A fuoco. Ma quanto è bellino. Vabbè, ti tirami su, ma la... Pikachu. C'è una relazione, Pikachu. Sì. Mi si convicchia anche a... Vadi. Pika, pika. E abbiamo anche questo coso bellissimo, carissimo, mio Dio. Allora. Vai. Non siamo pepino. Non siamo riusciti ad entrare al catcafè perché non sapevamo di dover prenotare e non sapevamo ci fosse in realtà. Vabbè. Vabbè. Perché Dio ci odia? Io ho preso il catcafè perché sono il cosplay di una persona adulta. Mmm, onesto. Le persone adulte prendono il catcafè e lavorano domenica mattina. Noi invece prendiamo queste stronzate. Oh no, Pikachu è morto! Pikachu è morto! Incazzadissimo con l'altro. Sì, infatti. C'era quell'altro che stavano coccolando. Vuoi un detto calvo? Eccoci qua, finalmente. Stiamo andando verso il concerto del Babymetal. Siamo un po' in ritardo ma neanche così tanto. Yeee! Ecco, cosa ne pensi di questo? Questo? Eh, momento. Sì, adesso diventi. La madonna! E perché oggi è l'immacolata? È giusto. È vero? Sì, sto buzzando i fri. Milano, perché sei così Milano? Ah! La madonna! Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.